Dunque, lo sguardo retrospettivo in genere proietta nel passato alcune esigenze della contemporaneità. Io credo che ciò emerga anche da manifestazioni apparentemente elementari del pensiero umano, come elenchi o liste, testimonianze, come ci ricorda Umberto Eco, assai meno accidentali o neutrali di quanto appaiano e forse capaci, al pari di scritture più articulate e complesse, di evidenziare le esigenze dei diversi presenti che le hanno generate. L'esperimento che propongo si cala nella cornice del convegno. L'esperimento che propongo si cala nella cornice del convegno. Vorrei tentare di verificare come la memoria delle istituzioni del comune medievale genovese, a meno di un secolo dalla sua fine, finisca già per costituire forme di rielaborazione in cui un'attività erudita solo apparentemente neutrale e distaccata è in realtà un momento di reinterpretazione del passato e si configura con quello che oggi, con un anacronismo consapevole, potremmo definire uso pubblico della storia. Valeria Polonio, in un suo saggio sull'erudizione settecentesca a Genova, rileva come l'interesse degli studiosi del tempo sia costituito da due grossi filoni. Da un lato le ricerche genealogiche, dall'altro la storia ecclesiastica, o meglio, la storia degli enti ecclesiastici. A questi due temi, che certo paiono preponderanti, se ne può aggiungere a mio avviso un terzo, minoritario ma comunque significativo, che si riscontra senza dubbio già dall'inizio del secolo precedente, la storia delle istituzioni e delle magistrature di governo. Si potrebbe opinare che si tratti di un interesse non propriamente culturale, ma piuttosto pratico o tecnico, nella misura in cui le nozioni sul funzionamento di questa o quella magistratura, potevano essere utili ai patrizi genovesi chiamati a ricoprirne i vertici. Ma ciò non si riesce ad ammettere quando l'elaborazione erudita si sostanzia nella mera elencazione di cittadini eletti in passato a ricoprire cariche pubbliche. Intendo soffermarmi proprio su queste forme di memoria storico-istituzionale, prendendo le mosse da una testimonianza in particolare. Il manoscritto numero 10 dell'archivio di Stato di Genova, intitolato Magistrati dal 1332 al 1528, è un volume di 360 carte, suddivise in 21 fascicoli omogenei, per formato ma non per consistenza, e probabilmente autonomi in origine. Ciascuno infatti è racchiuso entro un foglio di carta un pochino più pesante, come a costituire un quaderno autonomo, che reca sulla prima carta, quindi sulla copertina, il nome della denominazione della magistratura a cui è dedicato. L'organizzazione dello spazio della pagina varia di fascicolo in fascicolo, ed è preparato in anticipo rispetto alla stesura definitiva, mediante la suddivisione in colonne e l'indicazione a intervalli regolari degli anni a cui si riferiscono i nomi da inserire in un secondo momento. La distribuzione del testo è quindi piuttosto irregolare. Si alternano gruppi di pagine fitte di nominativi a pagine con dati sporadici o del tutto assenti. Sotto l'indicazione di ciascun anno, prima dell'indicazione dei nominativi degli eletti in quella precisa carica, è spesso presente la data di elezione e talvolta è riportata anche la denominazione dell'ufficio secondo forme diverse rispetto a quella principale, a testimoniare una certa variabilità nella nomenclatura. L'inserimento di foglietti incollati a posteriori qua e là o addirittura di un gruppo di sette carte nel diciottesimo fascicolo confermano una stesura evidentemente non sequenziale che già emerge dagli altri caratteri estrinseci. E proprio queste modalità redazionali ci portano a concludere che il manoscritto attribuito dalla tradizione a Giulio Pasqua debba anche essere autografo. L'attribuzione deriva da una notizia fornita dal suo ultimo detentore privato, il senatore Federico Federici, che nell'inventario dei libri e scritture che dopo la sua morte desidera siano lasciate in custodia del serenissimo senato, menziona anche un libro grosso dei magistrati compilato da Giulio Pasqua di 360 carte che mi pare corrisponda. Il manoscritto è quindi acquisito da Federici in un periodo compreso fra il 1609 e il 1644, ovvero la data dell'ultima registrazione inserita e quella della redazione dell'inventario di Federici. Forse però nel 1613, anno significativo nel quale Federici acquista da Pasqua niente meno che il codice degli annales ianoenses di Caffaro, quello che oggi è conservato all'archivio di Stato di Genova. Nel marzo del 1647, a pochi giorni dal decesso del senatore Federici, insieme ad altri documenti della sua raccolta, quindi il manoscritto entra a far parte dell'archivio segreto e li resta per circa un secolo e mezzo, perfettamente censito da tutti quanti gli inventari che sono stati poi prodotti in seguito. Nel 1812 dobbiamo immaginare che abbia seguito la sorte del restante materiale e quindi sia stato inviato a Parigi e da qui nel 16 a Torino, dove resta fino al 1867, appunto a seguito delle traversie subite dagli archivi cittadini in occasione del periodo napoleonico. Nel periodo torinese le carte subiscono parziali riordinamenti e appunto in questa fase il manoscritto acquisisce la collocazione archivistica che tuttora mantiene, cioè il numero 10 all'interno del fondo dei manoscritti. L'opera di Pasqua, slide 2, perché forse ne ho saltate un paio, va bene, l'opera di Pasqua nella sua composizione asciutta, priva di introduzioni, dediche o altri apparati che ne permettono un'interpretazione autentica, è pur sempre il punto di vista di un erudito della prima modernità sulla realtà amministrativa e politica della città nelle ultime fasi del periodo comunale e come tale va sconsiderata, tanto più che un approfondimento di indagine solleva più di una questione, a partire dal titolo che rappresenta l'oggetto in modo poi non così fedele né così completo. In primo luogo la forbice cronologica coperta dai dati è per molte magistrature differente rispetto a quella riportata dall'intitolazione. In secondo luogo dietro la degenericità del termine magistrati si nasconde invece una selezione che ne include alcuni e non altri e che quindi dovrebbe essere, dovrebbe trovare una qualche sua ragione. Alcune indicazioni tuttavia possono essere dedotte dai dati. Allora alcune indicazioni appunto possono essere dedotte dai dati che dall'altro canto comunque opportunamente aggregati contribuiscono alla rappresentazione di una componente significativa del gruppo dirigente genovese negli ultimi due secoli del Medioevo, sempre attraverso un filtro selettivo e quindi un'interpretazione che è da discutere. Come anticipato i 21 fascicoli, andiamo avanti, ancora vabbè, ok, che compongo nel manoscritto sono dedicati ad altrettanti uffici disposti in ordine alfabetico. In questa slide e nella successiva l'elenco, che non ho, non ripeto, per questione di tempo e di interesse anche. Secondo appunto una loro denominazione in ordine alfabetico ritenuta prevalente dall'autore, pare già significativa la scelta del criterio di disposizione, il criterio alfabetico, l'unico puramente arbitrario, segno dell'incapacità o forse della mancata volontà di proporre una sequenza significativa, magari su base gerarchica o su base cronologica, come se l'autore appunto mirasse all'incasellamento dei dati entro un modello logico in fondo piuttosto elementare, come quello che avete visto scorrere prima. Se lo si analizza da questo punto di vista, appunto come meri dati, il manoscritto comunica comunque qualcosa di interessante. Sono censiti 11.717 record. Ovviamente il numero delle persone fisiche registrate è di gran lunga minore, perché molti personaggi sono attestati più volte in diversi momenti a ricoprire diverse cariche. Ma al netto di possibili casi di omonimia che presentano il problema opposto e che non si riesce a disambiguare a causa dell'uso sostanzialmente sporadico dei patronimici, si possono censire su per giù 3.800 persone, riconducibili a circa 1.070 forme cognominali, che all'apparenza rendono il quadro delle aggregazioni familiari molto più ampio di quello che ci si aspetterebbe. In realtà non è così. Il periodo fotografato è un momento di forte variabilità cognominale e quindi non è possibile ricondurre, a meno non è ancora stato possibile ricondurre effettivamente ad unità questa mole. quel che conta è che emerge comunque un ruolo preponderante di 26 gruppi familiari che da soli esprimono un numero di magistrati pari a circa la metà di quelli complessivamente censiti. Cioè oltre 5.000 in 26 famiglie, in 26 cognomi su più di 1.000. Potete vederli elencati senza particolari sorprese. Ecco, sono i cognomi che ci aspetteremmo né più né meno. Discorso altrettanto interessante è quello sulle dichiarazioni di professione o di qualifica, che però statisticamente sono molto poco valide perché ammontano appena a 519, riconducibili a 16 tipologie rispetto alle quali le professioni del diritto fanno ovviamente alla parte del leone, i notari in primo luogo, ma anche i dottori in diritto. Vi figurano ovviamente anche banchieri, milites e una discreta selezione di soggetti dediti alle arti meccaniche come bambagiai, calzolai, drappieri, lanaioli, macelai, eccetera. È piuttosto interessante notare come quasi tutte quante gli uffici o le magistrature censite in effetti si distribuiscano in maniera equa artefices e personalità di altri gruppi sociali. Attraverso questo sommario percorso tra i dati siamo giunti appunto al cuore della questione, cioè all'interesse storico-istituzionale che emerge dal manoscritto. Gli uffici rappresentati, come si è già anticipato, sono solo una selezione di quelli esistenti. Il primo fascicolo riporta ad esempio i nominativi degli eletti tra il 1332 e il 1528 all'ufficio balie, guerre et pacificatores. Un ufficio straordinario, di altissimo livello gerarchico, detentore per periodi limitati di amplissimi poteri. Pare curioso constatare che non figurino invece affatto nel manoscritto i membri del Consiglio degli Anziani, l'organo ordinario che affianca il Doge nell'esercizio delle prerogative politiche. Vi è invece registrato l'ufficio in provisionis, che a partire dalla seconda metà del XIV secolo affianca il Consiglio degli Anziani e il Doge, insieme anche all'ufficio di moneta, competente quest'ultimo in materia finanziaria e destinato con la riforma del 1528 a divenere l'eccellentissima Camera di Governo della Repubblica. Sono analogamente destinati a essere sostituiti o accessare la propria attività l'ufficio di gazzaria, l'ufficio del mare, l'ufficio di mercanzia. Tra gli uffici dotati invece di una notevole continuità istituzionale si possono segnalare l'ufficio monetarum, che a dispetto della sinonimia non è l'ufficio monete, ma è quello incaricato della gestione della zecca, quello dei banchi, quello dei sindacatori, che con la riforma saranno poi meglio strutturati, ma che in realtà già esistono, l'ufficio di sanità, dei censori, dei padri del comune, dei consoli della ragione e il magistrato dei rotti. Paiono infine interessanti alcuni uffici di mandato speciale destinati alla cura di aspetti della vita pubblica che vedono una significativa commistione con il mondo ecclesiastico, come l'ufficio delle monache, quello di misericordia, quello della borsa di Pasqua e Natale, ma anche quello dei clavigeri, antichissima magistratura, che se nel periodo consolare era incaricata della custodia dell'erario del comune, nel periodo qui documentato, si limita invece a custodire le chiavi del tesoro della cattedrale. Con una certa commistione di spazi, perché l'erario probabilmente stava lì, ai tempi. Passiamo alle slide successive, vabbè anche la successiva. Non potendoci soffermare su tutti quanti gli aspetti che dobbiamo giocoforza a rinviare alla relazione scritta, occorre evidenziare almeno alcune linee generali. Si avvicinano nel manoscritto uffici e magistrature ordinarie e straordinarie, istituite con mandato ampio o al contrario molto dettagliato. Alcune sono destinate a dar corpo a una continuità di lungo periodo e altro invece a estinguersi. Certo, salta ancora una volta agli occhi la disorganicità della selezione, che può dipendere o dalla qualità delle fonti o da altri elementi che andranno valutati. Allora, per analizzare appunto le fonti, restiamo su questa slide, emerge chiaramente il rapporto con gli archivi pubblici, dalla serie e soprattutto dei registri e delle filze di versorum di quello che era ai tempi l'archivio del Senato. Ma non è questa l'unica fonte impiegata. I dati più recenti dell'ufficio di sanità sono probabilmente ricavati dall'archivio della cancelleria stessa del magistrato nel 600. Quelli più antichi dell'ufficio di Gazzaria invece, dal codice, dall'omonimo LIBER, che ai tempi si conserva almeno in due copie in città. Altre registrazioni tra le più antiche potrebbero essere desunte dagli annali di Giorgio e Giovanni Stella o da altri documenti che al momento non ho identificato. Più che l'origine delle informazioni riportate, però, desta perplessità l'assenza delle informazioni disponibili. Pasqua, infatti, si astiene dall'annottiare i nominativi degli anziani in carica, pur potendoli comodamente ricavare dagli stessi libri di versorum, che ne riportano i nomi in ogni delibera. Quindi emerge evidentemente una volontà da parte dell'autore di escludere questa magistratura. Alcune cose, appunto, non si capiscono, ma per capire le cose alle volte è meglio fare un passo indietro, considerare l'autore e il contesto. E questo ho provato a fare. Giulio Pasqua è figlio di Alessandro e di una minetta galleana, slide. Sì, ok. Appartiene a una famiglia originaria di Taggia, nella riviera di Ponente, inurbata a Genova alla fine del XIV secolo, aggregata all'albergo dei Dinegro in occasione della riforma del 1528, e che esprime tra il XV e il XVI secolo alcuni membri in diverse cariche significative del governo cittadino e della casa di San Giorgio. Nella seconda metà del Cinquecento dà alla Chiesa anche due vescovi, segno di un certo livello di promozione sociale, non vertiginoso, in realtà, se consideriamo la contemporanea presenza di altri membri della famiglia nei ranghi della burocrazia cittadina. Giulio vive quindi a cavallo tra Cinque e Seicento, ma le scarse notizie biografiche disponibili non permettono al momento di proporre dati sicuri. Ritengo sia un giovane adulto nel 1573 quando acquista il codice degli annali di Caffaro ed è certamente ancora in vita un quarantennio dopo quando lo rivende a Federico Federici nel 1613. In questo arco di tempo si collocano i non numerosi eventi biografici noti legati a relazioni di carattere culturale e istituzionale. Su questo secondo aspetto emerge l'elezione all'ufficio di sanità nel 1599 e nel 1607. Però è l'ambito culturale quello più ricco di spunti e informazioni, sebbene i riconoscimenti ottenuti presso i contemporanei non si siano certo tradotti in una duratura notorietà. Sia Michele Giustiniani sia Agostino Aldoini ne ricordano la figura nei loro trattati e un paio di opere che menzionano però sulla base di citazioni di precedenti autori pienamente coevi a Giulio Pasqua. In particolare nel 1592 Giulio Guastavino nei discorsi e annotazioni sopra la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso richiama un trattato delle famiglie nobili genovesi che Pasqua con non piccola fatica e diligenza va tuttavia compilando di cui però non sono riuscito a trovare traccia. Jean-Baptiste Lhermitte de Soulière nella sua Ligurie Française lo menziona come autore di un'opera intitolata Monumenta Comitum Lavanie che si conserva invece tuttora presso la Biblioteca Universitaria di Genova allo stato di manoscritto. Sempre da Giustiniani si apprende di un'amicizia tra Pasqua e il poeta Angelo Grillo il quale nel dedicargli un sonetto stampato nel 1589 dichiara di godere della sua amicizia e di considerarlo gentiluomo di molto metrito per lo suo valore e per la cognizione di ogni sorta di belle lettere. Un giudizio di perizia letteraria che in realtà stenta a trovare una conferma nella produzione pervenutaci. Poche opere di carattere compilativo tutte rimaste allo stato manoscritto. Oltre a quanto già menzionato il suo scritto di maggior successo sono le memorie e sepolcri che sono nelle chiese di Genova e suburbhi raccolte l'anno 1610. Il profilo che emerge è quindi quello di una personalità di secondo piano ma bene integrata nei circuiti culturali del suo tempo è il rapporto con la complessa figura di Giulio Pallavicino curioso interprete della stessa epoca magistralmente tratteggiato da Edoardo Grandi a fornirci una più efficace chiave di lettura dell'opera di Pasqua più giovane di lui di miglior condizione economica e di maggior prestigio sociale Pallavicino è certamente più noto per i suoi interessi letterari per la partecipazione all'Accademia degli Addormentati per l'imponente biblioteca che nel 1584 contava circa 2350 volumi da una porzione qualitativamente modesta di questa che è acquisita nella seconda metà dell'Ottocento dal Comune di Genova emergono interessi ben allineati a quelli di Giulio Pasqua ma anche un'evidente consuetudine tra i due slide tra i manoscritti esatto di Pallavicino se ne trova uno in particolare che si colloca in perfetta continuità cronologica e strutturale con il manoscritto 10 si tratta delle elezioni dei magistrati della Repubblica di Genova dall'anno 1528 al 1575 cavati e trascritti fedelmente dall'archivio pubblico la continuità di intenti di per sé rilevante assume ben altro peso se si considera che l'opera è dedicata a Pasqua con parole che gli riconoscono un ruolo significativo vostra signoria è stata sempre presente al fastidio che io mi son preso di ridurre le elezioni dei magistrati della nostra Repubblica né senza vostra signoria avrebbe mai avuto questa cosa perfezione tale testimonianza di collaborazione non è un caso isolato sono diverse le opere erudite di Pallavicino che richiamano quella di Pasqua nell'impianto o nello spirito e che gli sono dedicate nel decennio compreso tra il 1596 e il 1605 Pallavicino redige elenchi per diverse categorie di soggetti gli ascritti al libro d'oro fra il 1528 e il 1581 i magistrati della casa di San Giorgio dalle origini al 1528 i membri del magistrato degli straordinari che guarda caso non c'era nel precedente elenco fino al 1606 nonché anche qui una integrazione significativa quello dei consoli consiglieri anziani e governatori stati dalla nascente Repubblica Genovese sino a questi nostri tempi ad elenchi e liste si aggiungono anche opere di altro genere non posso scendere nel dettaglio per ovvie ragioni di tempo rimanderò alla relazione scritta ma un'analisi diciamo di contesto va pur data slide Giulio Pasqua e Giulio Pallavicino condividono interessi eruditi sulla storia delle famiglie genovesi ma ancora di più un progetto che sembra quello di voler comporre una sorta di libro matricola degli eletti alle cariche pubbliche dal comune medievale alla loro contemporaneità per realizzare questo progetto i due hanno ampio accesso all'archivio del senato all'archivio di San Giorgio e ad altre realtà archivistiche di altre magistrature con l'autorizzazione tacita o espressa in alcuni casi del personale burocratico in carica ultimo aspetto collaborano in modo concreto tanto che i rispettivi lavori sono complementari e non generano sovrapposizioni di sorta questa collaborazione quindi inserisce il manoscritto numero 10 in un quadro coerente dove trova finalmente senso gli dà leggibilità ma risolto un problema a mio avviso ne emerge un secondo perché due agiati patrizi genovesi come del resto fecero di lì a poco anche Federico Federici Raffaele della Torre e numerosi altri dovevano dedicare tempo risorse energie intellettuali in una fatica apparentemente sterile come ricopiare migliaia o forse decine di migliaia di nomi e cognomi allora ritengo che la risposta stia nell'esigenza sociale e culturale ancora ben viva a un ventennio dall'ultima guerra civile del 1775 1575 scusatemi di rifondare la Repubblica all'insegna della libertà e dell'unità superando in modo definitivo la congenita faziosità che aveva segnato la vita politica dell'ultimo comune medievale la partecipazione dei propri antenati alla gestione della cosa pubblica elemento stabilito nel 1528 come criterio di delimitazione del nuovo ceto di governo a distanza di oltre mezzo secolo resta ancora il solo comune denominatore del patriziato cittadino e deve pertanto essere eretto in elemento qualificante di aggregazione a scapito della memoria delle aspre contrapposizioni e lotte di inflazione che del resto se non sollecitate se non espressamente ricercate non emergono affatto da aride elencazioni di nomi di soggetti appartenuti a tutti gli schieramenti che per le alterne sorti del conflitto si erano avvicendati al potere in quest'ottica gli elenchi di cariche e magistrati facendo leva anche su silenzi e rimozioni sono la base di un'autorappresentazione collettiva del gruppo dirigente genovese che anche così tende a rafforzare e a rendere coeso quel patriziato sovrano che avrebbe retto le sorti della Repubblica per altri due secoli grazie per l'attenzione grazie grazie a tutti grazie a tutti